Stamattina mi hanno chiesto un cliente, un cilindro di sicurezza da sostituire, un altro lucchetto e un'altra serratura d'ingresso che sono state forzate e vengono a sostituirle. Quindi ladri in azione nella notte di Capodanno? Anche sì, sì sì. Non hanno orari. Un amaro inizio della 2019 per molti aretini. Nella notte di Capodanno si sono consumati infatti numerosi furti in tutta la provincia. Due colpi sono stati messi a segno nella quartiere Giotto, immediata periferia aretina. Nelle mire dei ladri sono finite due abitazioni rimaste vuote in occasione dei festeggiamenti per l'arrivo dell'anno nuovo. I ladri in entrambi i casi hanno fatto razzia di preziosi e denaro. In gente il bottino, solamente in uno dei due appartamenti sono scomparsi infatti oltre 1.500 euro di contanti. Un terzo colpo, sempre nella stessa zona, invece è sfumato. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i proprietari una volta rientrati a casa. Rassegnati? Preoccupati? Sì, anche ora, a parte gli scherzi, anche preoccupati, specialmente le persone anziane, così sono molto preoccupati. Si tratta di un fenomeno che nell'ultime ore ha interessato l'intera provincia. Una raffica di furti si sono infatti verificati in Casentino, dove in una notte soltanto sono state visitate dai ladri ben dieci abitazioni, tra Bibiena, Corsalone, Strade, Prato Vecchio e Stia, identico il modus operandi. I banditi prima hanno forzato portoni e finestre, poi si sono dati alla fuga con un bottino fatto di gioielli, con tanti orologi e collezioni di monete, lasciando le abitazioni a suo quadro. Potrebbe esserci dunque la stessa mano dietro alla serie impressionante di furti. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri.